Cerzeto, New Academy San Giacomo, finisce 0-3 ma è stata una gara equilibrata, divertente, agonisticamente corretta. Allora, mister Rapicello, sicuramente tre punti che prendete con soddisfazione su un campo però secondo me è difficile perché i padroni di casa vi hanno messo alle strette in diverse occasioni, specie sul finale del primo tempo. Voi con qualità siete usciti e poi alla fine con due golle negli ultimi 7-8 minuti avete allargato questo punteggio. Io lo sapevo, come avevo detto alla squadra in settimana che venivamo qua ad affrontare una squadra ultima in classifica ma solo sulla carta, sapevo di affrontare una squadra aggressiva e al primo tempo devo dire che ci hanno messo in difficoltà. Noi ci prendiamo i tre punti però al primo tempo la mia squadra non mi è piaciuta assolutamente, è mancata di personalità, di cattiveria agonistica, mi aspettavo qualcosina in più. Poi al secondo tempo magari è uscita fuori un po' l'esperienza ma ripeto non è stata assolutamente semplice e devo fare i complimenti a questo gerzetto perché ripeto a mio avviso non rispecchia l'ultima posizione in classifica. Abbiamo visto il terreno tenere bene, voi che avete provato spesso di giocare la palla però sicuramente non il San Giacomo che vediamo in casa. Verissimo, non è il solito San Giacomo che noi come tu ben sai cerchiamo sempre di giocare la palla dietro però oggi non era semplice, il campo magari dopo la pioggia si è appesantito un po' era assolutamente difficile giocare la palla dietro. Ripeto, non meritavamo il vantaggio, siamo passati in vantaggio sì meritatamente però c'è stata la reazione dell'avversario e noi non siamo stati bravi a gestire magari in alcuni momenti clou della gara. Cosa può fare questo San Giacomo che è in corsa per due obiettivi? C'è la Coppa, c'è il Villaggio Europa, c'è questo doppio confronto e c'è anche una posizione altissima di classifica. Sicuramente conoscendoti ogni allenamento sarà veramente una battaglia, figuriamoci le partite perché comunque siete in lizza e sicuramente ci vorrete provare. Sì, tu mi conosci bene, io indipendentemente dalla classifica sono un martello pneumatico perché non voglio lasciare niente al caso, non voglio mollare un centimetro, poi alla fine faremo i conti, se poi l'avversario o le nostre concorrente saranno più bravi di noi non possiamo fare altro che i complimenti. Poi come sono abituato io, come dico sempre, guardo partita dopo partita, oggi era importante vincere e prendere questi tre punti, ora in settimana andiamo ad affrontare la corazzata del torneo anche se in Coppa e poi ci prepariamo al meglio alla gara interna contro il Gepinonet che a mio avviso non sarà assolutamente semplice anche quella partita.